Cari amici, abbiamo appena festeggiato la Pasqua e un po' tutti, credo, abbiamo condiviso la speranza, l'auspicio che questa possa essere davvero una Pasqua di rinascita. Beh, anche la politica avrebbe bisogno di una stagione di rinascita, nella quale finalmente affrontare e superare le tante criticità che la caratterizzano. Penso ad esempio al tema della disaffezione politica, alla crisi dei partiti, penso ancora alla troppo limitata presenza delle donne nelle posizioni apicali della politica italiana e non solo. E ancora penso alla crisi del linguaggio politico, fatto troppe volte di slogan e interessato a parlare più alla pancia che alla testa dei cittadini. Bene, di tutto questo e di molto altro proveremo a parlare giovedì prossimo, 8 aprile, sempre sui canali social della Spess e lo faremo con Pierluigi Castagnetti, uno dei protagonisti della scena politica italiana e del cosiddetto cattolicesimo democratico. Vi aspettiamo giovedì quindi non mancate.